Io sono un uomo libero. La novità, la tecnologia, l'innovazione, questo è il mio mondo. Per questo ho scelto Omnitel. Si può scegliere tra due ricaricabili, libero o night and day, in base all'uso. Hai il cash display per sapere quanto resta, ricarichi da solo, quando vuoi. E puoi parlare a 195 lire al minuto già dalle 6 di sera. Carta Omnitel ricaricabile, senza canone né bolletta. E chi sceglie Omnitel non paga l'attivazione e parte con le 100 mitiche Harley serie speciale. Grazie.